ok salve ragazzi sono andrea bruno e faccio questo video per spiegare come mai il bitcoin continua a salire ed è destinato a salire perché molti che investono non sono tanto sicuri allora spiego delle cose molto semplici sia per chi ha già investito in quella direzione e per chi è scettico allora primo il bitcoin è già predeterminato ovvero ve ne sono 21 milioni quindi non verrà cariato dal nulla mentre noi euro dollaro abbiamo rotative che continuano a stamparlo oppure la banca che lo presta virtualmente senza nemmeno averlo quindi lo vanno ad inflazionare il bitcoin è già prestabilito ce ne sono 21 milioni di cui parte di questi 21 milioni sono già stati trovati dai miner ovvero ci sono delle persone che hanno delle apparecchiature che tengono in vita il bitcoin che servono per le transazioni e hanno già scoperto alcuni di questi 21 milioni diciamo una buona parte sono già stati scoperti però alla fin fine il cucuzzaro è già stato prestabilito per cui capite anche voi adesso che tutti vedono che il bitcoin cresce è una buona forma di investimento chiunque ci capisce qualche cosa di finanze investimenti o vuole conservare il suo patrimonio in questa forma di investimento qua vorrà un suo bitcoin 21 milioni non sono nulla nella vostra città ci sono sicuramente 21 milioni di dollari perché è una cifra in risorio in qualsiasi città milano genova venezia in qualsiasi città europea 21 milioni di dollari o euro esistono perché perché non è una grandissima cifra bitcoin diciamo una moneta che è centellizzata con il contagocce inoltre di recente quando c'è stato il fork cos'è successo per poter usufruire del surplus del fork ovvero diventare possessore anche di bitcoin cash occorreva mettere il bitcoin sul proprio wallet per cui di questi diciamo 21 milioni ma non sono tutti circolanti diciamo 15 milioni però tanti li hanno messi sul wallet hanno fatto quindi il discorso del cassettista l'hanno messo da parte e non lo toccano quando il bitcoin sul cash è difficile sul wallet è difficile da contrattare perché il wallet non te lo permette dovresti metterlo su un cambio a valuto online poi li mettono in vendita per cui cosa succede tanti che hanno il bitcoin siccome lo vedono come una forma di investimento a lungo termine l'hanno già messo da parte per cui la liquidità si è abbassata di molto circolanti ce ne saranno 3 4 milioni il resto è stato di recente tutto trasferito sui wallet da chi aveva il bitcoin quello classico tradizionale per cui abbiamo una moneta che è contata chi investe è propenso a non spendere fa il cosiddetto investimento del cassettista lo prende e lo mette lì e non lo tocca non sta neanche a guardare la quotazione oggi salito oggi lui sa di averlo lo tiene lì nel cassetto e fra qualche anno lo andrà a riprendere e vedrà cosa cosa si è rivalutato quindi cosa abbiamo abbiamo una moneta che per principio è deflazionistica ovvero rispetto alle monete classiche che sono inflazionistiche prenderà sempre il valore perché è contata e chi ce l'ha il suo possessore non è propenso a venderlo per cui se tu vuoi un bitcoin cosa devi fare devi prenderla ad un altro che ce l'ha ma visto che l'altro che ce l'ha in genere fa il lavoro del cassettista come faresti tu quando è il bitcoin non lo vai a vendere il giorno dopo presumibilmente fare anche tu il discorso e dici ma può scendere a salire comunque me lo tengo lo tengo lì diversi anni come già successo a molti che si sono arricchiti e diciamo il surplus il guadagno tu lo hai a lungo termine quindi adesso che ho spiegato questa cosa qui è molto più facile per chi vuole investire riuscire a capire come mai nel tempo il bitcoin è destinato a salire per chiudere vi dico solo una cosa euro e dollaro sono in bolla molti dicono eh ma la bolla del bitcoin io non sarei così tanto sorridente a parlare della bolla del bitcoin perché voi che vi tenete euro e dollari sotto il materasso che avete dato i soldi al monte dei paschi di siena che vi siete presi le parmalat state molto attenti perché chi è veramente in bolla sono dollari e euro quelli sì che stampano moneta dal nulla esattamente come fanno i falsari ciao a tutti e alla prossima